Cantina sociale di Castagnole Monferrato, dove nasce il Ruchè. Rapina questa mattina all'ufficio postale di Isola d'Asti. Erano da poco passate le 11 quando un bandito solitario ha fatto irruzione negli uffici del centralissimo corso generale Volpini. Secondo le testimonianze, l'uomo attorno ai 55 anni ha minacciato l'impiegata spruzzando sul balcone un liquido, poi risultato essere del semplice alcol. Il malvivente ha poi arraffato in un cassetto una manciata di banconote da 10 e 20 euro per un totale di circa 200 euro. Da notare come questa di Isola d'Asti sia la quinta rapina in uffici postali di piccoli comuni dell'Astigiano nel giro di pochi mesi. E questa mattina alle 9 al pronto soccorso Cardinal Massaia sono state ricoverate per intossicazione da monossido di carbonio Sette persone di un unico nucleo familiare, quattro adulti e tre minorenni di nazionalità senegalese. Secondo il racconto della polizia, l'intera famiglia aveva dormito alla periferia di Asti nella stessa camera riscaldata da un bracere. Tutti hanno accusato vomito, nausea e forti dolori di testa, le loro condizioni non sono giudicate gravi ma dopo gli accertamenti i medici hanno disposto il trasferimento alla camera iperbarica delle molinette di Torino. Nella notte tra i caselli Asti, Este e Dovest dell'autostrada Torino-Piacenza il traffico è rimasto bloccato per un paio di ore, precisamente dalla mezzanotte alle 2 di questa mattina. Il blocco è stato causato dall'incendio di un autocarro con rimorchio carico di genere alimentari diretto verso Alessandria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asti ma le fiamme hanno distrutto la motrice e parte del rimorchio. A Monbercelli, nella tarda serata di ieri, i carabinieri hanno arrestato due giovani albanesi pregiudicati. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due checi, 21 anni, senza fissa dimora e Nicoli Imprenga, 28 anni, abitante a Asti, sono stati bloccati in centro paese. Perquisiti avevano 26 grammi di eroina già pronta per essere consegnata. E dal pomeriggio di sabato è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Alessandra. Giovanna Adamo, 50 anni, farmacista di Montegrosso d'Asti, stava tornando a casa in auto da Castellazzo Bormida quando si è scontrata frontalmente con la vettura guidata da due svizzeri rimasti feriti in modo leggero. Ai soccorritori le condizioni della donna sono apparse subito gravi ed hanno consigliato il ricovero al reparto rianimazione dell'ospedale Alessandrino. Al suo capezzale sono accorsi il padre Ernesto, già farmacista del paese, e la mamma, Luciana Piumatti, ex sindaco. Questa mattina, secondo le prime informazioni, i medici hanno riscontrato un buon miglioramento delle condizioni generali della paziente. Ad Asti è deceduto invece ieri Vincenzo De Milano, 89 anni, decano degli orefici astigiani. È stato per tanti anni presidente dell'Automobile Club ed in gioventù era stato un noto corridore automobilistico con la partecipazione a diverse targhe. Florio per oltre un decennio era anche stato presidente del Torino Club di Asti. I funerali sono previsti per domani martedì alle 9.30 nella chiesa di Don Bosco. Seppure senza danni, piccole scosse di terremoto continuano ad interessare la zona di Castellalfero. Ormai da due settimane il paese è l'epicentro di piccoli movimenti tellurici. Ieri sono state registrate altre due scosse. La prima di magnitudo 2,7 è stata avvertita alle 13.34 ad una profondità di 10 chilometri. La seconda alle 14.07 è stata di magnitudo 2,8 e ad una profondità di 5 chilometri. Fortunatamente non sono stati segnalati danni. E con questo, qui d'Asti è tutto, grazie per l'attenzione. Cantina sociale di Castagnole Monferrato, dove nasce il ruchè.